Io sono Giulio Piscitelli, mi occupo di fotografia documentaria, presento all'Odi la mostra Zakem, che è un progetto sulle vittime di guerra in Afghanistan commissionato dalla ONG Emergency, un progetto che racconta le vittime e i carnifici della guerra in Afghanistan attraverso ritratti e fotografie still life degli oggetti che sono stati estratti dai corpi delle vittime della guerra. Un lavoro svolto nel 2018 negli ospedali di Lashkarga e Kabul della ONG Emergency e un lavoro commissionato dalla stessa in occasione dei 25 anni della nascita dell'organizzazione di Gino Strada. Oltre ai ritratti che si possono trovare in esposizione in questo posto, alla Cavallerezza di Lodi, anche una parte legata al reportage più classico svolto all'interno di questi ospedali di guerra. e spero possa piacervi, possa spingervi a riflettere sulla violenza che spesso le zone di guerra vive, le zone di guerra vivono. E grazie. 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 Grazie.